Tutto come previsto, l'annuncio della chiusura al traffico del viadotto Sente, che collega Agnone a Belmonte del Sagno e all'Abruzzo, era nell'aria. Un pilone del ponte, il terzo da diverso tempo, era sotto osservazione dopo che era stata notata una sua rotazione. Sul posto i tecnici della provincia e dell'ANAS, che hanno fatto i rilievi, ma la diagnosi non è cambiata. Il viadotto, uno dei più alti d'Europa, non dà le necessarie garanzie di stabilità e di sicurezza. La notizia della chiusura è stata data direttamente da Lorenzo Coia all'incontro con i sindaci alto molisani, richiesto dal sindaco di Agnone, Lorenzo Marco Vecchio, dopo il crollo di Genova e dopo le scosse di terremoto in Basso Molise. Marco Vecchio in particolare era preoccupato per i due viadotti che collegano Agnone, a ovest con Isernia e a est con Belmonte del Sagno e l'Abruzzo. Ebbene, dopo i nuovi rilievi, Coia ha comunicato la sua decisione. Il Sente verrà chiuso e il traffico deviato. Sul viadotto Sente, un'analisi più approfondita, soprattutto di quel terzo pilastro che si era ruotato nel corso degli anni ed era sotto continuo monitoraggio da parte sia della provincia che degli altri enti, abbiamo scoperto invece che la situazione di criticità è abbastanza seria. È stata predisposta a una relazione dai nostri tecnici e molto probabilmente nel giro di questa settimana procederemo anche alla chiusura del viadotto Sente con grossi disagi per la popolazione. Un dramma per gli studenti e per i residenti di Belmonte che da giovedì per arrivare ad Agnone dovranno percorrere decine di chilometri di strade dissestate. Circa 2.500 persone, come ricorda Don Francesco Martino, saranno isolate e non potranno più raggiungere ospedale, scuole e uffici di Agnone. Qui siamo in Abruzzo e guardiamo il Molise al di là del Sente. Tommaso Lilli, un artigiano abruzzese che lavora qui, che succederà ora che chiudono viadotto? Perché adesso è finito, non si può più lavorare. Con questa strada che collega Abruzzo e Molise, perché ci sono Castiglione, Montazzoli, Fraine, Schiavi d'Abruzzo, Torre Bruna, Guardia Bruna, è completamente impossibile. Ma noi abbiamo anche un altro problema più importante, che abbiamo l'ospedale, anche se lavora non è proprio funzionante al 100%. Però anche se lavora, diciamo, quel 10%, 20%, adesso è completamente impossibile. Perché la statale vecchia è completamente disastata. Non è che si può andare sulla strada vecchia, perché è completamente impossibile.